Grazie anch'io, ti voglio bene, grazie Giando, un abbraccio grande, crepi e comunque ci troveremo insieme, grazie, ciao, 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 ciao. Le ultime parole famose, Giando ti voglio bene. Sì, ci siamo scambiati un ti voglio bene perché c'è un rapporto di amicizia e di affetto veramente grande che non nasce oggi e che si è poi tradotto in una campagna elettorale di grande rispetto tra me e Giandonato. Noi siamo rimasti un po' in silenzio, però raccontiamo anche che Giandonato in tempi non sospetti voleva essere un po' il suo promoter, voleva candidare al sindaco a un gruppo civico. Sì, ma c'è sempre stato un rapporto di grande stima che non nasce oggi, ci siamo trovati avversari in un ballottaggio che comunque è stato un ballottaggio dai toni alti, nel senso che tra me e lui si è parlato di questioni, ci siamo confrontati sui temi senza scendere a colpi bassi e questo dimostra, è la dimostrazione del rapporto che c'è e sono certo del rapporto che ci sarà e rimarrà umano sicuramente ma anche istituzionale nel rapporto all'interno del Consiglio Comunale perché al di là dei giusti ruoli che ci saranno tra maggioranza e opposizione, al di là del confronto, dello scontro che sicuramente a cui assisteremo nel corso dei prossimi anni, sulle grandi questioni e sui grandi temi ci siamo trovati d'accordo in campagna elettorale, ci troveremo d'accordo anche nel corso di questa amministrazione perché le sfide che terma davanti sono enormi e se non le si affronta tutte insieme con il Consiglio Comunale e con la città non riusciremo mai a superarci Quanto Giandonato Morra ha pagato la saturazione della politica gattiana? Sicuramente ha pagato le vicende della passata amministrazione, Giandonato senza ombre di dubbio all'interno della sua coalizione erano presenti le vittime, i carnefici dell'esperienza Brucchi e quindi coloro che hanno portato questa città al commissariamento nel periodo più difficile della sua storia quindi sicuramente queste contraddizioni sono emerse e rispetto all'elettorato comunque hanno pesato L'assessore Maria Cristina Marroni ha detto che il primo progetto sarà quello di nominare, di intitolare il Comunale a Ivan Graziani L'ex consigliera Cristina, l'amica Cristina Marroni non mi ha ancora fatto una proposta formale in questo senso ma quando parliamo di Ivan Graziani vogliamo sicuramente di sopra delle parti, vogliamo alto quindi qualsiasi proposta dovesse andare e chiunque dovesse farla di omaggio a Ivan qualsiasi proposta verrà sicuramente bene Strano, ti sembrano, mi sembri felice Sono felice